Salve sono Nanni Bassetti, ho appena terminato il talk sul workaround, problem solving nella computer forensics, anzi nella digital forensics sottolineando appunto come per fare questa disciplina, per lavorare in questa disciplina non basti solamente utilizzare software e schiacciare dei tastini ma bisogna sempre studiare, avere inventiva, intuito e cercare sempre di trovare la soluzione migliore e che sia anche scientificamente plausibile. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima!